Buonasera e benvenuti alle 21.35 di questo sabato, sabato prima di Pasqua, all'ennesima, esattamente alla 27esima puntata dell'imprenditore e gli altri, 27esima puntata dell'imprenditore e gli altri vuol dire che sono 27 giorni, 27 giorni che noi ci incontriamo perché sono 27 giorni che la pressione che il Covid-19 mette sull'Italia è una pressione forte, è una pressione decisa e allora il governo italiano ha deciso di prendere provvedimenti diciamo seri, come si può dire, importanti ed ecco che siamo tutti chiusi nelle nostre case. Questa emittente, Radio Cusano TV Italia, è un emittente dell'Università Nicolò Cusano, come voi tutti sapete e come i nuovi ascoltatori apprenderanno in questo istante. Siamo l'unica università in Europa a possedere un emittente televisivo, un emittente televisivo che va sul digitale terrestre su tutto il territorio italiano. Ora, questa emittente è nata proprio prima dell'inizio dello scoppio del Covid-19 e ecco perché in questo momento io mi trovo in questa trasmissione, perché l'Università Nicolò Cusano ha deciso all'inizio della crisi di chiudere all'interno della propria università 80 persone, 80 dipendenti dell'università che si sono resi volontari per poter mandare avanti tutta l'università, per poter permettere ai 40 mila studenti che l'università ha e a tutte le sedi che l'università ha in Inghilterra, le sedi che l'università ha in Francia, in Spagna, di continuare a operare e ad andare avanti. Ed ecco che siamo ormai da più di 40 giorni chiusi all'interno di questa università. Perché oggi io parto così e dico questo? Lo capirete tra qualche istante. Intanto vorrei far entrare il nostro magnifico rettore, c'è un ospite fisso, il rettore dell'Università Nicolò Cusano e il professor Fabio Fortuna. Buonasera a lei, oggi siamo tutti e due vestiti di bianco, io mi sentivo tanto Gandalf il bianco oggi. Eppure non ci mettiamo d'accordo. No, non ci mettiamo d'accordo, è una cosa così, istintiva, a pelle. Forse io e lei avremo una storia a fine Covid, adesso non ne parliamo con tutti. Detto questo, rettore che giornata è stata oggi? Una giornata dura? Oggi è una giornata dura a Bandecchi, veramente, un sabato santo, ci avviciniamo alla resurrezione, ma è stato di passione dopo il venerdì santo, perché i dati di oggi non mi sono piaciuti per niente, per niente, per niente. Sono moltiplicanti i dati di oggi. Perché praticamente noi abbiamo avuto 4.694 nuovi contagi e 1.996, quindi quasi 2.000 di incremento rispetto ai positivi, attualmente positivi. 4.694, Bandecchi, sono tanti. Per me sono un'enormità, bisogna tornare indietro di dieci giorni per trovare anche dodici, per trovare 4.700 contagi. Una situazione secondo me drammatica che ci fa capire che c'è qualche problema in ciò che stiamo gestendo. Però, rettore, siccome come sempre noi ne parliamo con chi, diciamo, governa, con chi rappresenta il governo e con chi poi rappresenta l'opposizione, perché essendo la nostra un emittente televisiva universitaria, noi tentiamo anche di essere elemento di valutazione, di confronto e propositivo anche, perché chissà, qui potrebbero anche nascere idee importanti, come dovrebbero nascere le idee in qualsiasi università e come in tutto il mondo, ormai da più di mille anni nelle università nascono le grandi idee, le grandi intuizioni. Ora io farei entrare il nostro primo ospite, però, che è il senatore Bruno Astorre, che è segretario regionale del PD per il Lazio, nonché senatore della Repubblica Italiana. Buonasera, senatore. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera. Buonasera. Buonasera, senatore. Perfetto, buonasera. Buonasera. Senta, ma, siccome mi scrivono sempre, Astorre è giusto come pronuncia del suo nome? Sì, perfetta. Perfetto, ok, no, perché prima mi hanno dato dei suggerimenti sui vari accenti, ho detto cerchiamo di non sbagliare. E chi voleva dire? Astorre? Astorre, qualcuno, io ho detto, per me si chiama Astorre, però. Astorre è un uccello rapace, il mio nome è Astorre, forse di origine marchigiana, ma è Astorre. L'Astorre è il nome di un rapace. Allora, prima di iniziare, diciamo, entrare in trasmissione, io vorrei, in compagnia dei nostri ascoltatori, vedere un filmatino che dura giusto 30 secondi. Vorrei che voi lo guardaste con molta attenzione, perché poi parleremo di Covid-19, di oggi e di tutti i problemi che ci sono. Se la regia è pronta potremmo vedere questo piccolo, brevissimo video, un po' più. Tangenziale est di Roma, Scalo San Lorenzo. Questa è Roma che dovrebbe essere vuota. Vuota. Alla grande proprio. Ok, l'avete visto che sto firmato? Sì. No, però aspettate, prima di parlare, ce lo fate rivedere dalla regia, per favore, tanto dura 30 secondi, è un attimo, ce lo fate rivedere, perché io non ho creduto ai miei occhi quando l'ho visto, lo vorrei, lo vorrei rivedere un attimo, è possibile? Ok. Chi di voi due vuole parlare per primo? Beh, non so. Prego, se non è possibile. Io ho qualche perplessità che questo video sia proprio un vero, insomma, verificatelo bene, insomma, io ho degli articoli del Corriere e del Messaggero di altri giornali che danno file sulla pontina e sul raccordo anorario, questo è vero, e in particolare in uscita non si sta rispettando molto le varie ordinanze. Su questo, insomma, io una verifica più importante la farei, rimane il fatto che mi pare che Roma, io ho sentito anche gli altri segretari regionali, dopo aver visto questo video, peraltro, di Italia, mi pare che Roma sia una delle più indisciplinate. Come Milano, anche Milano, e Milano è anche peggio, perché mentre Roma, potremmo dire che fino a ieri si era abbastanza cavata con il Covid, oggi ha raddoppiato i numeri e vabbè, Milano no, ma c'è un punto secondo me, possibile che, lo dico da persona che sta da più di ormai 40 giorni chiusa all'interno dell'Ateneo, parco bellissimo, 54 mila metri quadri, vi invito a conoscere l'Università Nicolò Cusano, però sempre in galera sto, perché da 40 giorni non metto il naso fuori, non vedo la mia famiglia, non vedo i miei figli e oggi mi domando, questa è Roma? Ma anche se non fosse questo firmato vero, voglio entrare nel dubbio che ha lei. È verosimile, Presidente, se non è vero è molto verosimile. Mettiamo che non lo sia, sappiamo per certo che c'erano file sulla Pontina e che c'erano file sull'Aurelia, ma è possibile questa cosa oggi? Come pensiamo di batterlo questo Covid? Allora mandiamo la gente a lavorare, perché se questo è il rischio che tutti vogliono correre, allora è bene che da lunedì vadano a lavorare. O sbaglio, Senatore? Io penso che si debbano rispettare le... Io uguale. Anche se sono convinto che io credo che dobbiamo anche immaginare un piano per la riapertura, perché altrimenti rischiamo che quando riapriamo, forse se non siamo morti di corona, siamo morti di fame. Quindi io immagino che delle aperture già sono state un po' fatte, delle piccole aperture. Io immaginavo anche i cantieri all'aperto, in effetti, insomma. Io sono di quelli che pensa che bisogna pian piano riaprire, tenere conto che ormai, fino a che non ci sarà il vaccino, dobbiamo portare la mascherina, i guanti e tenere la distanza sociale. Questo ce lo dobbiamo mettere in cuore. Senatore, e lo chiedo anche al Rettore, avete una motivazione di come mai dovrebbero riaprire? Io non ce l'ho contro le librerie. Mi piace comprare libri, mi piace leggere libri, mi piace anche solo guardarli. Perché riaprono le librerie, però? Perché la libreria è la fontana dell'anima. Quindi tanti che magari non vogliono comprarseli su Amazon, non hanno la possibilità di andare in libreria, leggere significa passare anche il tempo. E poi guardi, io vorrei fare una battutaccia brutta brutta, che naturalmente è una battuta, non è la verità. Purtroppo riapro le librerie, perché tanto non saranno mai luoghi tanto affollati. No, quello che lei dice, purtroppo, è una grandissima verità. Io la penso come lei, però saranno luoghi dove quando ci sono due persone dentro già sono tante, è vera ragione. Però, per esempio, mi scusi, la Lombardia mi sembra che abbia messo questo divieto e forse anche l'Emilia stessa. Ha detto che le librerie sì, ma solo… Le librerie hanno la possibilità di fare… solo le regioni, non i comuni, hanno la possibilità di fare ordinanze più restrittive. Ha visto, per esempio, che la Lombardia ha messo anche l'uso delle mascherine e la campagna l'ha annunciato tra 15 giorni. Quindi le possono fare cose più restrittive. Però io penso che noi dobbiamo immaginare un percorso di riapertura. Tanto col corona ci conviveremo fino a che non ci sarà il vaccino e ci conviveremo, secondo me, soprattutto con l'idea, ripeto, mascherine, guanti, soprattutto distanziamento sociale e rispetto delle norme. Tanto aspettiamo 20 giorni o un mese, non è che saremo tutti e 40 milioni immunizzati. Ovviamente con i test sierologici potremo capire quanti di noi lo hanno avuto e sono portatori sani. Però rimane il fatto che fino a che non ci sarà il vaccino… Ah, Presidente, dove sono andati a finire tutti quelli no-vax? Dove sono andati a finire, Presidente, tutti no-vax? Io guardi, ho fatto il vaccino dell'influenza quest'anno, mi sentivo orgoglioso, invece poi è arrivato questo mostro, ho detto a me, ah, non vale nulla. A me se esce il vaccino penso di essere tra i primi due o tre che lo farà, perché sono un malato di vaccini. Io credo che il vaccino sia la cosa più intelligente del mondo. Lei se lo ricorda quando noi da piccoletti avevamo il vaiolo? Io sono orgoglioso di aver avuto il vaccino del vaiolo. Detto questo non ho mai capito chi pensa che i vaccini non vadano fatti. In questo momento ha ragione, sono spariti tutti. Sono spariti i no-vax. Vabbè, Senatore, scusi, dato che lei mi sembra una persona anche di esperienza, come la vede questa possibile ripresa? Perché le farò una domanda, anzi, le do una riflessione. C'è una legge che secondo me non doveva essere fatta, che forse è nata con lo spirito positivo, ma che oggi sta rischiando di bloccare la vera ripresa. Parlo di quella legge che ha fatto diventare il Covid-19 una malattia paragonabile a un incidente sul lavoro, paragonabile al fatto che il muratore cade dall'impalcatura, paragonabile alla macchina che ti schiaccia, e cioè una malattia che si può prendere sul lavoro. E se si prende sul lavoro ha anche un risvolto penale per l'impresa, per l'imprenditore, a parte un risvolto civilistico che quindi riguarda i soldi. Ora lei mi insegna che ci sono molti avvocati pronti a buttarsi su questa operazione. Come mai è stata fatta questa legge? Si pensa di cambiarla? E come questa legge secondo lei influenzerà questa nostra ripresa? Perché le dico, il supermercato è difficile salvare la cassiera con il Covid-19, a meno che non la chiudiamo in un'urna la cassiera. Sì, io penso che alcune norme sono state anche fatte sull'onda dell'emozione. Naturalmente siccome soltanto i paracarri rimangono fissi sul bordo della strada e non cambiano mai idea, se ci sono state delle norme sicuramente da correggere, le persone intelligenti sanno anche ammettere se ci sono da correggere e si correggeranno sicuramente a ragione. Quindi l'emozione all'inizio naturalmente è stata molto forte. Io penso che una serie di normative, io ricordo che qualche giorno fa c'è stata molta polemica su una norma che avevamo proposto e io invece condividevo al mille per mille di scudo penale per quanto riguarda i medici, i sanitari e gli infermieri. Io penso che in questa fase le nostre autorità pubbliche e gli infermieri e i medici stanno adottando dei provvedimenti sull'onda dell'emergenza che non possono essere tarati rispetto alla normalità. Quindi io penso che sia giusto che vengano scudati per quanto riguarda i loro comportamenti. Naturalmente questi comportamenti non hanno dolo o colpa grave, naturalmente se non ci hanno dolo o colpa grave. Questo è naturale, non c'è coscienza e volontà che ragionare danno. Ma in questo momento chiunque ha delle responsabilità, chiunque, dal sindaco del più piccolo comune al presidente del Consiglio, chiunque sta assumendo delle iniziative, delle decisioni che non hanno un precedente negli ultimi 70 anni. Quindi molto probabilmente se poi le andiamo a giudicare con le regole, le leggi normali, proveremo un sacco di condanne. Senatore, ma dato che lei ha detto questo, che è un momento particolare, speciale e succede che ci sono leggi particolari e speciali, allora mi viene una domanda che mi deve venire spontanea, perché tanto il suo collega, che è il senatore Andrea Di Bertoldi, che poi senteremo subito dopo di lei, lo dirà. L'opposizione non è sentita. Perché lei, come mai in questo momento non si mette in campo anche l'opposizione? Non sarebbe per il governo un sistema migliore per garantirsi delle proprie azioni? Sì, bisognerebbe dirlo a Fontana in Lombardia o ai vari governatori del centro-destra che purtroppo non sentono nessuno. Qui a livello nazionale una cabina di regia è stata fatta, il ministro d'Inca ha incontrato tantissime volte le opposizioni. Il tema sa qual è. Io penso che sia giusto un governo che abbia una unità nazionale di intenti, ma non un governo che sia un governo di unità nazionale politico, perché questo non penso sia giusto, ma invece gli intenti, i suggerimenti quelli intelligenti, non quelli che vogliono fare più uno, cioè se uno stanzia 10 e 20, se uno mette 10 giorni, 20 giorni, il rischio è che c'è un po' un più uno sempre. Allora questo è sbagliato, mentre è giusto invece, sarebbe giusto continuare ad avere un ascolto con l'oppressione e prendere idee intelligenti che possono venire da tutte le parti. Rettore, lei che cosa ci dice di questi pensieri, di queste elaborazioni? Il senatore ha esposto in modo chiaro il suo pensiero, che è assolutamente rispettabile, anche condivisibile in larga misura. Certamente per quanto riguarda l'aspetto di questa emergenza sanitaria è abbastanza sconvolgente, perché nelle dichiarazioni pubbliche, nelle comunicazioni periodiche che ho seguito giorno per giorno, ho ravvisato, soprattutto nelle ultime giornate, un senso di positività onestamente non correlato ai numeri. Mi dispiace dirlo, però la situazione è questa e l'ottimismo, forse eccessivo rispetto alla situazione, ha anche generato un senso di irresponsabilità nei cittadini che non capiscono che il pericolo non è cessato, è soltanto leggermente diminuito, in Lombardia oggi 1.500 nuove contagi. Quindi io sono una persona ottimista, però anche realista e ai cittadini bisogna dire le cose come stanno e secondo me siamo stati leggermente ottimisti, però c'è anche da dire che abbiamo prolungato fino al 3 maggio, mi sembra un prolungamento assolutamente ragionevole, con delle piccole riaperture per proiettarci anche in modo concreto, seppure embrionale, in questa fase 2. Ma non ho capito che cosa abbiamo proiettato fino al 3 maggio, perché per me le file che siano sulla tangenziale, che siano sull'Aurelia o che siano sulla Pontina non dovevano esistere, perché scusatemi, ma se per garantire determinate situazioni ognuno di noi doveva mettere in campo la propria persona, come facciamo a trascurare il fatto che nell'ultima settimana sono aumentate le uscite e che nell'ultima settimana sono riaumentate le infezioni? Allora stiamo cercando, senatore lo chiedo anche a lei, stiamo cercando l'immunità di gregge? Stiamo cercando di andare piano piano verso un'immunità? Quindi ci stiamo selezionando piano piano, che cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando il contagio zero o stiamo aspettando che ci immunizziamo, perché per esempio io resto abbastanza stupito che si pensi di poter far giocare dei calciatori, di cominciare gli allenamenti il 4 di maggio. È normale secondo voi, senatore? Allora io non voglio andare in contendenza con lei, naturalmente il contagio zero non ci sarà mai, credo che non avremo un ciclo, penso che sarà impossibile e l'immunità di gregge l'ha teorizzata uno che poi è andata a finiterapia intensiva a fare il seguito. Sono detto apposta. Anche quello non mi pare una cosa interessante. Guardi, io sono un po' in contotendenza rispetto al Rettore, cioè io sono molto più preoccupato per la pandemia economica che per la pandemia sanitaria, perché tanto con la pandemia sanitaria noi ci dovremmo convivere, ripeto, apriremo il 3 maggio, il 10, il 20, il 30, ma tanto con la riapertura. Noi adesso stiamo riuscendo ad avere meno morti, questo è vero. Forse è più contagio. Sono quasi 20 mila, senatore, sono quasi 20 mila. una guerra. Non oggi, Rettore. Non oggi. Oggi sono aumentati 619. Vabbè, senatore, sono 600 al giorno, 580 o 610. 500, 700. È un dato che è incontrovertibile da una settimana di decisione a questa parte che attiene alle terapie antivirali e antireumatoidi che si stanno facendo, soprattutto anticoagulanti, perché stanno imbloccando la terapia e quindi molto probabilmente avremo sempre di meno malati in terapia intensiva, perché oramai insomma il protocollo fatto dal sacco di Milano, dallo Spallanzani, sta iniziando a funzionare. Rimane il fatto che in alcuni momenti, in alcune persone, penso a quella del povero agente di polizia, la scorta di Conte, con 52 anni, con 4 giorni te muori, perché può essere anche fulminante. Io però, consentitemi, 20 mila morti sono tanti, tantissimi, noi dobbiamo lavorare affinché non ci sia neanche un morto. Io sono molto preoccupato per la parte economica. E va bene, ma a tutto c'è rimedio, alla morte no, senatore, scusi. Anche all'economia un po' si può rimediare, ma alla morte non si rimedia, a 20 mila siamo, 19.450. Dettore, ma faccia l'economista lei, perché alla fine lei sta diventando un sanitario. Sì, io studio economia, economia aziendale, però di fronte alla morte e alla salute, insomma. Ma io non sto criticando l'operato, ha capito? Non è che sto criticando. No, l'operato dell'Italia, però scusate se adesso faccio cicciolo protomomea, l'operato del Lazio, cioè l'operato del Lazio mi pare che è una delle regioni che sta reggendo meglio rispetto a regioni che potrebbero essere il modello, come la Lombardia o anche l'Emilia. Insomma, il Lazio mi pare che ha stabilito anche dei modelli di Covid sparsi sul territorio. A me sembra che sia una delle regioni che sta, tenete conto che abbiamo la capitalità, quindi anche con una concentrazione di persone fortissima. È oggettivamente vero. È oggettivamente vero quello che sta dicendo. Il Lazio ha detto bene. Senatore, una cosa vorrei dirle. Facciamo attenzione anche nel Lazio. Lei l'ha visto il post di quel medico che per tre giorni ha invocato il tampone avendo la febbre ed è morto dentro casa? Perché nessuno è andato a fargli il tampone. No, no, ragazzi. Rettore, ce ne saranno altri di questi incidenti di percorso. Questo non è l'unico. Non è l'unico assolutamente. E non è successo solo nel Lazio. Sarà successo in Lombardia come sarà successo in Piemonte e come sarà successo in Sicilia. Non stiamo dicendo che è colpa di scelte. Capito? Quando diceva che all'ospedale di Alzano Lombardo qualche cazzata l'hanno fatta. Scusate, qualche cazzata l'hanno fatta. C'è stato un bip. Abbiamo sentito un bip. Si può dire. Non meno male che lei ha detto questo perché sono sempre l'unico solo. No, c'è sicuro che ho capolato. Va bene, questa parola va bene per oggi. Andiamo avanti. No, io ripeto, la mia preoccupazione è soprattutto economica perché per paragonare il coronavirus è una malattia quale è. Insomma, quando prende una malattia, uno che è sano, gli viene il raffreddore. Se prende una malattia, uno che ha il raffreddore, gli viene la polmonite. Se viene una malattia, uno che ha la polmonite, che era un po' lo stato dell'economia dell'Italia, da un po' d'anni a questa parte, rischia il decesso. Quindi io sono molto preoccupato su questo. Quindi spero che... Senatore, però sono morti dei ragazzi anche l'unico, un regbista anche importante, francese, 35 anni, 34 anni, giovane, forte, grosso. So, voglio dire, succede di tutto. No, io ho detto questo. Ho fatto l'esempio della malattia per dire lo Stato economico dell'Italia rispetto magari a Stati Uniti d'America. Però mi scusi, voglio farle una domanda. Come vede lei la ripresa economica? Io sono d'accordo con lei, però voglio capire. Stabiliamo che gli operai vanno in fabbrica vestiti con la muda, con la mascherina giusta, con gli occhiali giusti? Cioè, perché io penso che si possano fare certe cose. Il problema è... Per esempio lo smart working, che fino ad oggi non è stato mai attivato. E questo va bene. Gli impiegati stanno a casa. Ma una cosa che sicuramente deve essere strutturale, insomma, no? Sì, gli impiegati stanno a casa. Nelle scuole e nelle università... A rotazione, io dico a rotazione, non dico che gli impiegati stanno a casa. Sì, sì, va benissimo, va benissimo. Nelle scuole e nelle università possiamo far andare un po' di studenti a casa, un po' solo in smart working, anche per gli studenti, in learning. Va tutto bene. Però parliamo delle nostre grandi fabbriche, perché noi abbiamo le nostre grandi fabbriche dove bisogna andare dentro e lavorare con le mani. Quando stabiliamo la procedura, cioè una tuta, una maschera idonea, non la mascherina, scusate, cinese, che devo mettere, usa e getta... In Cina, a Wuhan, hanno iniziato ad aprire anche le fabbriche. Quindi dei protocolli di sicurezza anche nelle fabbriche, anche nei luoghi di lavoro... Senatore, senatore, c'è chi dice che a Wuhan... Pensate ai stabilimenti balneari, pensate ai cinema, ai teatri, c'è tutta un'economia, soprattutto in Italia in particolare, che insomma campa sul turismo, sulla cultura, che è uno dei punti trainanti, ma pensate al Made in Italy nel mondo. Io quello sono, ecco, molto preoccupato. Adesso hanno fatto un brain trust con Cairo, Presidente, speriamo che anche da lì si implementa delle idee concrete. Io, ripeto, sarò in contropendenza. 20.000 morti sono tantissimi e speriamo di ridurli il più possibile a uno, e neanche uno al giorno. Però, insomma, io lo sento la gente, quelli, la cassa integrazione, 600 euro, quelli dicono che la mia fabbrica non so se riapre, la mia azienda non so se riapre. Per esempio, adesso hanno fatto un accordo, lo dico al Presidente, un accordo tra la Fiat e i sindacati per riaprire con l'ok di Burioni. Quindi dei modelli di riapertura ci stanno. Rilazione della temperatura, obbligo di mascherina, sanificazione degli ambienti e un metodo di distanza anche a Mensa. Se voi guardate, sta su tutti i giornali, l'accordo tra Fiat e i sindacati, riaprono le grandi fabbriche con dei protocolli. Ecco, la Fiat sta riaprendo così. Controllo di temperatura, distanziamento di un metro, controllo di tutti quelli che aprono. Non si può riaprire, insomma. Sì, ma infatti non è che dicevamo il contrario. No, no, è vero che bisogna riaprire. Diciamo che secondo me bisognerebbe, nei protocolli aziendali, mi scusi Senatore, inserire anche un protocollo della vita a casa. Perché se poi il sabato e la domenica te ne vai evidentemente, non dico in discoteca che sono chiuse, ma se te ne vai in mezzo a altre 400 persone nella festa in famiglia, allora non quaglia. Se siamo tutti in fila vanno a mangiare pesci anzi o a voglia lavorare di staccati in fabbrica. Ho capito, ma se... Scusi, io penso una cosa. Ma tutti quelli che oggi erano sulla strada, sulla Pontina, sull'Aurelia e non ci dovevano stare, gliel'abbiamo fatta la multa di 27 mila euro che non pagheranno mai in tutta la vita. Perché bisogna insegnare a qualcuno. Gliel'abbiamo sequestrata la macchina. La multa è di 400 euro, non è di 27 mila euro. No, io gliela volevo fare di 27 mila euro. 400 euro sono pochi. No, se sono troppe, tanto la gente non le paga. Se è salata si paga e se sei positivo e va in giro c'è la galera. Questo sembra che sia giusto. Insomma, è il sequestro della macchina. Se sei positivo c'è la galera? È la galera e c'è il sequestro della macchina. Sì, sì. Se uno è positivo, sì. Non sapevo che ci fosse la galera. Perché non può andare in giro se è positivo, quindi è grave. Va bene, va bene. Senatore, lei ci ha dato indicazioni giuste. C'è qualcosa? Siamo in democrazia e quindi è giusto, ma io penso che nessuno ha la ricetta in questo momento. Altrimenti, ecco, Jonathan che una settimana fa diceva la Svezia cerca di avere un modello di apertura. L'Italia, insomma, ha fatto subito... Senatore, anche riaprendo, anche facendo tutto quello che vuole, cerchiamo di avere mascherine, materiali di protezione, tutte queste cose qua. Ne parliamo tra dei mesi, ma non riusciamo. Senatore, mia moglie ha comprato oggi... Scusate, mia moglie ha comprato oggi su Amazon. In Italia non c'era nessuno che faceva queste cose. È chiaro che poi è diventato un'asta verso i paesi da tutta la Cina e i paesi dall'altra parte, perché noi fino a 20 giorni fa le mascherine e queste cose qua in Italia non venivano più prodotte. Dovevi rispondere in un altro modo, però. No, posso dirvi le cose, scusate. 30 gennaio siamo in stato d'emergenza, questo bisogna ricordarlo. 30 gennaio. 30 marzo, no, il DPM è dell'8 marzo. No, no, il 30 gennaio è cominciato lo stato d'emergenza che doveva durare sei mesi. Quindi lo sapevamo che ci poteva attendere qualcosa. Non è stata presa in maniera... Tutti, no, adesso... Tanti hanno preso in giro Zingaretti che è andato a Milano con Sara... Diciamo che l'aperitivo poteva farlo a Roma. L'aperitivo a Roma poteva farlo, dai. All'inizio oggettivamente... Se è sottovalutato, lo possiamo dire, senatore? Vabbè, esistono... Scusate, scusate, scusate. Rettore, mi scusi. Non è una colpa, però se è sottovalutato. Rettore, mi scusi. A ragione vera non è che solo i politici hanno sottovalutato. Abbiamo avuto dei virologi che hanno detto chiaramente che per prendere il coronavirus, lo dicevano a gennaio, bisognava andare in Cina. Quindi è stata sottovalutata da tutto il sistema. Abbiamo visto che l'Europa ci ha preso in giro fino a un mese fa. Ora sta nel panico. E gli Stati Uniti hanno fatto la stessa cosa. Quindi, ok, chiudiamo qua. Però quello che mi interessa a dire è un'altra cosa. Mia moglie oggi, per comprare tre mascherine su Amazon, ha visto che tre mascherine costavano 70 euro. Tre mascherine vere. Ma non ha comprato FP3, però. FP3 ha voluto comprare. Mi scusi, non è che posso andare in giro con questi sciarponi, perché poi dopo ogni giorno ne cambio due. Perché una mascherina che dura un mese vale di più di una che dura ogni tanto, no? Ma la mascherina chirurgica, quella che si vende massimo un euro, va benissimo. Perché soprattutto il tema è che dobbiamo avere tutti la mascherina. Ma questa è la cosa più importante, guardate, è il distanziamento sociale. Tanto possiamo avere anche la mascherina. Ma se uno vicino c'è il coronavirus, anche l'FP3 ti dà soltanto il 20% di sicurezza. Lei ci ha dato un'indicazione adesso che ci fa proprio l'autobus. Bisogna montarci sopra un sei sull'autobus. Perché se c'è uno vicino che è ammalato, sei fottuto, è finito. E tutti quanti c'hanno la mascherina, anche quello ammalato, in uscita, in uscita, non fa uscire il virus. Il tema è che tutti quanti la dovrebbero portare. Ora, a piano piano, naturalmente, la si porterà pure tutti quanti. Però forse dovremmo abituarci, fino a che non ci sarà il vaccino, a uno stile di vita, ripeto, un po' diverso rispetto, ma forse molto diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino al 30 gennaio. Quest'anno al mare sarà come andare al mare in Arabia Saudita, per le nostre signore. Tutte vestite, cielo e terra. E come gli italiani, che sono abituati a dire che vorrebbero rispettare la legge, ma che la legge, insomma, vale solo per l'altro. Noi siamo un po' fatti così. Ma questo è il nostro, purtroppo, abbiamo la fantasia, abbiamo il genio, abbiamo anche, tante volte, l'intelligenza di risolvere problemi complicati. Però, insomma, il rispetto delle leggi e delle norme, noi c'è un po' poco... Sì, un po' ci manca. Senatore, il nostro tempo è finito. Purtroppo questa trasmissione è piccoletta, bisogna farla andare veloce. Grazie, grazie, Presidente. Grazie per aver invitato. Ne ho detto prima, io Radio Cusano la conosco, sia per il direttore, che so che è un grandissimo direttore, soprattutto per la radio, che è molto famosa, molto ascoltata, di volta che qualcuno in Radio Cusano se ne parla a livello nazionale. Quindi io sono... La ringrazio, la ringrazio. Diciamo che l'Università Niccolò Cusano tenta di fare del proprio meglio, e anche questa emittente televisiva farà parlare di sé sicuramente. Io spero che diventi, come ho detto prima, un elemento di proposizione, cioè un elemento di confronto per poter proporre qualcosa di migliore. Grazie comunque per adesso. Buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Allora, lettore, adesso abbiamo parlato con un esponente di governo e ora andiamo a parlare con un esponente dell'opposizione. Però, lettore, non litighi con tutti, perché lei oggi... No, lei ultimamente litiga con tutti. Ma lei mi dice così, ma non è vero. Rettore, io so che lei ha dei fan che le danno indicazioni, però io mi rivolgo ai fan del Rettore. Ditegli, non litigare con tutti, non va bene così. Si presenta a bronzatino, tempo diciamo che non si deve uscire, capellino lungo e litiga con tutti. Così non va bene. Comunque, facciamo entrare, se è in linea, lo dico alla regia, il senatore Andrea De Bertoldi, di Fratelli d'Italia, è segretario... Buonasera, buonasera, senatore. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, senatore, se si aggiusta... No, dall'altra parte, senatore. Dall'altra parte... Perfetto, così è perfetto. Così è perfetto. Va bene? Allora, senatore, lei non so se ha seguito... Se ha seguito, diciamo, ciò che ci ha detto e che ci siamo detti con il suo collega, però anche con lei... No, non con lei... Prego. Non vi ho seguiti fino adesso perché non riuscivo a collegarmi. Bene, allora le faccio però vedere un piccolo filmato che abbiamo fatto vedere a un suo collega e così anche lei ci spiegherà quello che ne pensa. La regia, se è pronta, ci manda questo piccolo filmato di 30 secondi. tangenziale est di Roma, Scalo San Lorenzo. Questa è Roma che dovrebbe essere vuota. Vuota. Alla grande proprio. Ok, senatore, ha visto anche lei questo filmato? Qualcuno sostiene che non sia veritiero, però vero è che oggi le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, ci ha detto che sulla via Puntina e sulla via Aurelia c'era una grande fila nei dintorni di Roma e che c'era una fila anche a Milano per uscire, diciamo, e andare verso i laghi. Quindi, che cosa ne pensa lei in un momento così di restrizione fino al 3 marzo chiuso in casa? Qual è il suo pensiero? Beh, il mio pensiero non può essere che preoccupato se così è. Io ho apprezzato in queste settimane, in questo mese abbondante, la serietà degli italiani, non solo dei miei concittadini del Trentino, ma anche la serietà dei romani. Sono tornato da Roma proprio ieri sera e devo dire che, per quanto ho potuto constatare, ho visto una grande disciplina. Purtroppo, invece, le immagini che mi avete, orora, trasmesso direbbero il contrario. Auguriamoci o che non siano vere oppure che sia stato solamente un fenomeno momentaneo, perché certamente non si può scherzare con questo virus e con questa emergenza. Però forse ci potrebbe essere, in qualche caso, Bandecchi un'influenza dei posti di blocco, perché quando c'è il posto di blocco, su quelle strade così strette, è una strada vicino a casa mia, l'agenziale Est. E allora col posto di blocco si blocca completamente, non lo sappiamo questo. Ma ci sono due chilometri di fila. Però di gente in giro ce n'è troppa, questo è vero. Senta, io le posso dire che qua in via Bocea, oggi mi sono fermato, noi affacciamo su via Bocea, scappato il senatore. Sono le cose belle della diretta. Riecco il senatore. Pensavamo che fosse scappato per un attimo. C'era una canzone che mi ricordavo, che diceva è l'uomo della Chevron, che non aveva capito, fece un passo indietro e fuggì nella notte. Vecchioni, vecchioni, ho citato vecchioni. Allora, detto questo, senatore, stavamo dicendo, sì, è vero, che sicuramente ci potrebbe essere un posto di blocco, ma due chilometri di fila sono veramente tanti. Mi sembra un po' inopportuno. E poi, qui mi stavo dicendo, in via Bocea, oggi, a me è capitato di vedere il semaforo rosso e di vedere da una parte e dall'altra 12 macchine. Cioè, sinceramente, 12 macchine da una parte e 12 dall'altra fanno 24 persone che avevano bisogno di uscire il sabato di Pasqua. Io sono 40 giorni che sto chiuso qua dentro e non ho bisogno di uscire, voglio dire, e questi hanno bisogno di uscire per forza. Allora mettiamoci d'accordo. Io l'ho già detto. Se debbono uscire, possono andare a lavorare anche martedì mattina. Che dice lei, senatore? Io dico che sicuramente, anche per la mia forma mentis di settentrionale, addirittura di nato in Sud Tirolo, nell'Alto Adige, non posso ovviamente che condividere che le regole vadano rispettate. Però è ovvio che se si parla di lavoro, qui entrano anche ulteriori ragionamenti. Penso che sia doveroso da parte di un Paese certamente responsabile sul piano sanitario, ma anche responsabile sul piano economico, prevedere che l'economia non possa rimanere ferma ancora per troppo. E quindi bisogna organizzare la riapertura, una riapertura certamente in sicurezza, con la garanzia che i lavoratori non possano correre rischi, o comunque che i rischi siano limitati. E quindi io dico certamente non perdiamo ulteriore tempo, perché le nostre aziende, le nostre imprese, hanno da riprendere il loro lavoro, hanno da ritornare sul mercato, non possono perdere produttività e capacità produttiva. Rischiamo che si perda l'uno e l'altro, rischiamo che si perdano commesse importanti e che il nostro sistema economico veramente si trovi a un momento zero. Ecco, credo che chi governa, chi legifera, ma soprattutto chi governa, debba tenere presente anche questo. Quindi sicurezza da parte, ma dall'altra ovviamente immediatezza nella ripresa delle attività produttive. Senatore, mi scusi, ma di tutto il denaro che abbiamo sentito, 450 miliardi messi a disposizione degli italiani, ad oggi quanti, secondo lei, ne sono stati erogati? Ma guardi, ad oggi non c'è un italiano che abbia ricevuto un euro, non c'è un cassa integrato, non c'è un lavoratore autonomo, non c'è un imprenditore. Beh, le casse integrazione, mi sembra di aver capito che dal 15 cominceranno le prime. Dovrebbero, ecco. 15 aprile. Solamente parole e solamente parole. Abbiamo l'ultimo decreto, il decreto degli giorni scorsi, il cosiddetto decreto liquidità di aprile, che promette di mettere in circolo oltre 400 miliardi a debito del mondo produttivo, quindi 400 miliardi di linee di credito, che però, coloro che hanno qualche rudimento di ragioneria pubblica, sanno benissimo che un decreto che davvero volesse promuovere 400 e rotti miliardi di linee di credito, dovrebbe compensarle, coprirle nel decreto con circa l'8,3% di coperture, quindi equivarrebbero ad oltre 30 miliardi di coperture. Ebbene, lo ha chiarito molto esplicitamente la fondazione dei dottori commercialisti, la fondazione Utecne, questo decreto liquidità di fatto è a costo zero, cioè non è stato messo un euro a copertura delle operazioni di credito. Senatore, aspetti, che abbiamo anche un esperto di commercialisti e dintorni, il nostro rettore dell'Università Nicolò Cusano. Rettore, che cosa dice lei? È così? Hanno messo zero? Ma infatti non si deve chiamare decreto liquidità, ma decreto garanzie. Qui non è una questione politica, è una questione proprio... Rettore, scusi, ma lei non sta rappresentando il governo qui in questo momento? Prego? Lei non è filo governativo? Io non sono né filo governativo né dell'opposizione lei lo sa, io studio, sono un professore dell'economia aziendale prestato all'economia perché l'economista aziendale ha un senso concreto delle cose oltre a conoscere le linee generali dell'economia. Quindi le dico che... Ed è vero che non sono stati messi i soldi? Certo, sono solo garanzie. E poi... Sono solo canzonette, quindi si potrebbe tradurre così? Sì, decreto garanzie, ma questo, guardi, e questo glielo dico sempre, lei lo sa che io espongo le mie idee. Ieri sera in conferenza stampa Conte ha detto, tre giorni dopo, che aveva parlato di liquidità immediata, ha detto certo, ci vogliono un po' di tempo, ci vogliono i tempi di tempo, una cosa del genere, ha detto, quindi forse si è reso conto che doveva aggiustare il titolo. Nemmeno fino a 25 mila Euro i credito sono immediate, ci vuole il vaglio anche per quello dell'Europa che ancora non è arrivato, e poi ci vuole la banca che mette a disposizione la liquidità e ci vuole lo Stato che persa la garanzia al 100%. E qui... E qui... A proposito di banche e della liquidità, è una domanda che avrei voluto fare a tutte e due. E se mi sentite, la Banca d'Italia ha inviato alle banche una raccomandazione per intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti del governo. Il documento pubblicato sul sito dell'Istituto Centrale chiede alle banche di fornire senza indugio istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle regole e procedure interne da adottare al fine di assicurarne uniformità di applicazione. Sì, sì. Certo, Banca d'Italia ha dato delle raccomandazioni. Non per dare i soldi, per dire come... Ma passano i giorni, Bandecchi. Qui ogni giorno che passa le imprese hanno sempre... Soprattutto le piccole e medie imprese hanno sempre minori possibilità di riaprire e di riprendersi. Stiamo perdendo ancora i giorni. Senatore, che cosa dice lei? Però, Rettore, io glielo ho già detto. Quando abbiamo uno dell'opposizione lei fa il governativo. Quando abbiamo uno del governo lei fa l'opposizione. Rettore, ci mettiamo mai d'accordo? Mi scusi, senatore, è che con il rettore non ci capiamo. Prego. Ma io, nonostante il rettore dovrebbe svolgere il ruolo del governativo, non posso che condividere le cose che ha detto. Infatti, il paese qui si va oltre la politica, si va, direi, nel buon senso. Noi siamo dei tempi. Io sono un dottore commercialista, sono un uomo abituato a vivere nelle aziende e mi rendo conto come davvero i nostri imprenditori siano oggi degli eroi, come sono degli eroi ovviamente e che li ringraziamo in ogni momento, gli infermieri, i medici e le forze dell'ordine che stanno cercando di tenere in piedi questo paese. Gli imprenditori hanno bisogno di risposte. Vede, io vivo a un'ora, un'ora e mezza di macchina dal confine tedesco e in Germania dobbiamo ricordarci che in poche ore sono arrivati minimo ad ogni partita IVA 5.000 euro e chi ha dei dipendenti 9.000, 20.000, eccetera. Quindi, sono arrivati soldi veri. Purtroppo, da noi si sono fatte solo chiacchiere. Abbiamo un presidente del Consiglio e qui non è un parere politico, non è che io faccio l'uomo di opposizione che vuole attaccare il presidente del Consiglio. Io constato che abbiamo un presidente del Consiglio che continua ad andare a fare trasmissioni televisive, proclami a reti unificate, a promettere e a non dare nulla. Non abbiamo ancora visto nulla. Abbiamo preso in giro gli italiani fino ad oggi, abbiamo creato anche una discriminazione tra lavoratori autonomi. se è vero, come è vero purtroppo, che nel decreto Cura Italia abbiamo che mentre i professionisti ordinistici, mi spiego, gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri, cioè quei liberi professionisti che hanno un ordine professionale, sono sottoposti a, giustamente io dico, e lo sono io un professionista ordinistico, sono sottoposti a dei vincoli per accedere ai 600 euro, vincoli di reddito fino a 35.000 oppure da 35.000 a 50.000, tutti gli altri lavoratori autonomi, quindi commercianti, artigiani, consiglieri di amministrazione di grande società, tutti questi non hanno assolutamente alcun limite reddituale. Tradotto, cosa vuol dire? Che lo Stato spreca soldi perché ci sono purtroppo persone che non avrebbero bisogno perché hanno patrimonio ed hanno avuto redditi molto alti che possono usufruire dei 600 euro e viceversa persone che ne avrebbero tanto bisogno ma ben di più di 600 euro che ovviamente si vedono dare le lemosi e oltretutto che gli uni e gli altri rimadiscono avuto fino ad oggi nulla perché le lentezze sono tanti che hanno impedito questo. Senatore, siccome lei fa il commercialista se non ho capito male nella vita diciamo di tutti i giorni ora anche il senatore domando questa norma che fa diventare il coronavirus una malattia diciamo grave quanto un incidente sul lavoro e che se viene presa sul lavoro potrebbe diventare una situazione penale per l'imprenditore come la vede lei? Ma vede la vedo come tutte le norme che vogliono ammazzare l'impresa in Italia cioè quando si vuole far crescere un'economia il rettore mi può essere maestro in questo quando si vuole non lo dica che il rettore in questo momento sta rappresentando il governo quindi io voglio ricordare il rettore guarda è filo governativo non vedo l'ora riceve una telefonata dal presidente Conte per dice vieni anche tu nella commissione così siamo a posto già vabbè non voglio dire nulla andiamo avanti prego ci sarei andato bandecchi mi dispiace come? non ci sarei andato mi dispiace come ci sarei bandato lei prima mi doveva telefonare doveva dire vado io avrei detto vada no io non chiamavo nessuno io sono amolibro non sarei andato lei ha contratto c'è il cartellino guardi non è un calciatore lei i calciatori sono uomini liberi gli altri sono tutti a contratto andiamo avanti senatore come dicevo nel momento in cui si vuole rivitalizzare un sistema produttivo si vuole promuovere il sistema economico bisogna creare delle condizioni di facilitazione di appetibilità del nostro territorio purtroppo non c'è un settore che sia appetibile per la ricchezza per l'imprenditoria parliamo di giustizia parliamo di giustizia tributaria di diritto fiscale tributario e di norme del lavoro di investimenti tutto in Italia viene complicato da una burocrazia assurda ecco se si vuole ulteriormente limitare l'appetibilità del sistema paese si proceda pure con le norme penali cioè si dica all'imprenditore se il tuo dipendente prende il coronavirus tu potresti essere chiamato a rispondere penalmente per chi non è attuato tutte con quante le misure necessarie per la protezione senatore lei sa meglio di me che anche se un'impresa metterà a posto tutte le norme farà tutto ciò che c'è da fare esisterà sempre qualche avvocato che dirà al povero disgraziato diciamo alla famiglia del poverino che sarà deceduto fai causa all'impresa perché comunque alla fine arriveremo a un compromesso lei sa meglio di me che l'impresa si troverà comunque una causa che si troverà a sentirsi dire dammi un milione e hai risolto i tuoi problemi e se no vedrà una causa dove un giudice del lavoro e un civilista diranno beh andiamo a analizzare tutto e allora viene fuori che la mascherina era della marca non si sa che respiravi in un modo insomma è difficile salvarsi da questa cosa non è facile per me questo blocca al 50% la ripresa in Italia pensi io ho dato le dimissioni da presidente della mia società mi sono dimesso perché ho detto io non posso garantire contro il coronavirus non so se sono l'unico italiano che ha cominciato a capire di che si parla forse piano piano anche gli altri capiranno ma vede prego non dobbiamo dimenticare che abbiamo un governo nel quale il player di maggioranza è il movimento 5 stelle il movimento del giustizialismo della populismo a 360 gradi dove bisogna sempre colpire qualcuno bisogna sempre creare il fenomeno mediatico cioè andando avanti in questa direzione purtroppo non solamente non si ripartirà ma si farà si andranno ad uccidere anche quelle realtà che bene funzionavano prima del coronavirus quindi occorre da un paese che si dia una svolta complessiva e io arrivo a dire che mi appello al presidente della repubblica perché in un momento così tragico così drammatico per il nostro paese non possiamo essere portati in porto da persone che nella loro propria vita non hanno mai dimostrato nulla che non hanno mai avuto delle competenze tali da poter dare garanzie di approdo felice per il nostro senatore però scusi senatore qui è lei un po' ingiusto perché all'interno di 5 stelle ci sono avvocati ci sono commercialisti ci sono anche tanti lì tante persone però non vanno al governo però però non vanno al governo non vanno al governo diciamo che chi è lì non l'ha messi al governo è un insieme di cose però ci sono dei professionisti anche lì medici stimabili non è che anche lì ci sono persone così perché bisogna dirlo questo io non ho votato per il movimento 5 stelle però devo dire che ci sono tante persone autorevoli anche all'interno di questo partito ecco prego se mi permette io frequento e ho anche rapporti di stima e di amicizia con tanti colleghi del movimento 5 stelle no io non mi spingo così oltre questa è una cosa che fa lei e devo dire che se prego se vi sono delle persone di qualità certamente ma raramente sono state portate al governo cioè purtroppo al governo il movimento 5 stelle ha messo i toninelli ha messo i di maio ha messo i bonafede cioè ha messo quelle persone che probabilmente sono meglio manovrabili dalla piattaforma russo e non mi faccia dire di più adesso lei mi ha levato la parola rettore lei che dovrebbe essere filo governativo ci dica che ne pensa di questo che ha detto adesso il senatore l'ultima parte eh certo è la parte più difficile come ho parlato di quella precedente l'ultima parte mi era leggermente scomparsa la voce e l'ultima parte ha detto che il movimento 5 stelle mette a comandare al governo quelli che sanno meno e lascia a casa quelli che sanno di più ma io questo non lo so onestamente bisognerebbe dare un'occhiata ai curricula e vedere cosa hanno fatto nella vita ma questo vale per tutti non soltanto per i 5 stelle vi levo da questo imbarazzo leggendovi questa cosa coronavirus Conte vede la task force di esperti per la ripartenza uscire presto da lockdown il team di esperti guidato da Vittorio Calao dovrà presentare al più presto le proposte per riaprire le attività produttive Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha tenuto una riunione in videoconferenza con il comitato di esperti in materia di economia e sociale la task force per la ripartenza istituita ieri il premier ha chiesto al comitato di individuare nel breve periodo e a stretto raccordo con il comitato tecnico scientifico le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal fermo totale favorendo la ripresa delle attività produttive che cosa ne pensate di questa task force che è fatta da varie persone non vi leggo tutti i nomi ma ci sono immagino che li conosciate è una task force che ci risolverà il problema serve questa task force o no? ci hanno detto i telegiornali di tutta Italia che lavorano gratis lavoreranno gratis e non vogliano soldi ci mancherebbe altro io per lavorare voglio essere pagato ma che c'è ma adesso c'è un'emergenza tutti quelli che lavorano gratis sono sempre visti fare delle cose che poi alla fine dicono io lavoravo gratis che cosa devo fare c'è un'emergenza nazionale per cui lavorano per l'Italia e quindi io credo che questo sia l'ultimo dei problemi vorrei sapere cosa ne penso di questa task force ma non non dei componenti proprio come come ruolo che recita mentre il comitato scientifico è sicuramente una cosa necessaria per un governo perché si occupa di un tema per il quale almeno in linea teorica deve esistere una competenza specifica la cura della salute quindi bisogna essere medici bisogna essere studiati in questi campi io credo che un governo per altre problematiche di natura economica di gestione dello Stato e di tutte queste cose debba sapere come orientarsi e soprattutto non abbia bisogno di una pletora di esperti che in modo concomitante debbono far fronte a questa esigenza quindi sì ci può stare però certamente poi non si potrà dire che implicitamente perché poi si dice sempre che la responsabilità politica è del governo ma nel caso del comitato scientifico il peso secondo me è di gran lunga maggiore rispetto a quello che potrà avere questo comitato tecnico diciamo che è stato nominato e il cui lavoro può essere senz'altro utile ma a mio giudizio non determinante per le scelte politiche poi ok senatore De Bertoldi lei che cosa ne pensa di questa task force ma penso che forse uso un termine sicuramente forte si è in atto un piccolo commissariamento del Quirinale perché questo ci appare sostanzialmente non mi risulta che queste persone siano state scelte dal Presidente del Consiglio ma che il Quirinale preoccupato per il modo in cui viene gestito il contingente abbia suggerito sostanzialmente una determinata linea io conosco alcune delle persone e sono sicuramente persone di alta qualità e lo dico con assoluta serenità d'animo e credo che possano sicuramente dare un contributo importante perché di fronte ad un governo che io ho definito e lo ribadisco senza problemi un governo per lo più di incapaci di persone che sanno vendere fumo e non hanno prodotto alcun arrosto e qualunque cosa possa portare qualità è ben vista lo aspettiamo lo aspettiamo urgentemente perché questo paese sta soffrendo quindi se il Quirinale ha voluto come si dice dare un'iniezione di vitalità e di qualità all'organo che deve all'organo di governo non posso che in questo momento vederlo come un atto positivo ma lei queste cose la dice anche quando va alla sesta commissione permanente della finanza e del tesoro guardi io ai ministri della repubblica e al ministro Gualtieri ho sempre detto in faccia quello che penso e le garantisco che forse sono stato anche più duro di quello che sto dicendo qui che dice Gualtieri Gualtieri guardi raramente ha dato delle risposte chiare io ho qui un'interrogazione del 5 di marzo proprio su uno dei temi del giorno sul tema del mess dove ho incalzato sia in commissione che con l'interrogazione il ministro Gualtieri le risposte sono sempre state piuttosto di dubbia interpretazione risposte che comunque mi facevano pensare già un mese un mese e mezzo fa che il mess tanto negato in realtà fosse ad esempio una strada ormai intrapresa e sulla quale il governo stava solamente cercando di guadagnare tempo e nascondere agli italiani quello che stava facendo e questo è il dato di fatto purtroppo cioè siamo un paese che ad oggi grazie al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle è di fatto commissariato ok senta sempre parlando con lei rettore anche lei mi ascolti bene perché qui c'è una cosa particolare che devo dire è tutta farina del senatore di Bertoldi mi dica Bertoldi quando sbaglio approvato moneta fiscale approvato ordine del giorno su moneta fiscale l'impegno del governo per via libera a crediti imposta cartolarezzati che cos'è ce la vuole spiegare questa moneta fiscale questa cosa sua sì guardi intanto con grande piacere ovviamente non è una cosa mia la paternità nasce in un gruppo di professori ed economisti che io stimo molto ancora alcuni anni fa sono il professor Silo Slavini ed altri colleghi insomma il professor Cattaneo eccetera e sostanzialmente nasce sul concetto di di cartolarizzare i crediti di imposta per capirci per spiegare meglio ai telespettatori e quando noi cambiamo le finestre di casa quando noi cambiamo la caldaia riceviamo un credito di imposta da utilizzare nella dichiarazione dei redditi bene questo credito di imposta però è un qualche cosa che noi possiamo utilizzare quando facciamo la dichiarazione dei redditi ma non è di fatto trasmissibile attraverso la cartolarizzazione del credito di imposta cioè trasformarlo diciamo in un titolo in un certificato questo credito di imposta diventa di fatto una moneta parallela senza valore legale che però è costituendo un credito certo è circolarizzabile ed è scontabile nel sistema bancario ciò cosa determinerebbe la possibilità per lo Stato di finanziare il sistema economico non più con la moneta perché abbiamo perso la capacità di stampare moneta come ben sappiamo ma attribuendo ai lavoratori agli imprenditori in crisi agli imprenditori che devono che vogliono fare investimenti che quindi vanno incentivati attribuendo loro appunto questi crediti credito di imposta che però hanno una scadenza a 24 o 36 mesi o meglio avranno valore a 24 o 36 mesi cosa vuol dire che l'imprenditore potrà utilizzarli come credito di imposta tra 24 o 36 mesi però cosa succede che grazie a questa postergazione chiamiamola impropriamente non rientrano nelle regole di Maastricht come debito quindi non creano debito pubblico lo creeranno eventualmente quando verranno utilizzati quindi tra due o tre anni nel frattempo però cosa è successo che in questi due anni abbiamo iniettato liquidità di fatto nel sistema che crea un aumento di gettito perché quando si mette liquidità secondo voi si crea un aumento di gettito Rettore che cosa ne pensa lei di questo prodotto diciamo economico finanziario diciamo così come l'ha spiegato con chiarezza il senatore ha ha delle chance di poter però mi domando se è stato elaborato molti anni fa i governi sono alternati non hanno mai preso in considerazione qualcosa che non va deve averlo il discorso di moneta paralela a me non piace indubbiamente però ho capito il senso della denominazione ha precisato il senatore che non è moneta esattamente però qualcosa nel meccanismo che adesso io non avevo mai sentito ma qualcosa di non funzionante c'è tra l'altro sappiamo benissimo che lo Stato con i credi di rimposta poi da un po' di anni permette al contribuente di effettuare la compensazione per cui non so quale possa essere la ricaduta operativa di tutto ciò mi sembra se posso dire così da giornale d'alta voce di impatto mi sembra come idea buona però un pochettino complessa nella realizzazione senatore che cosa abbiamo giusto due battute non è una critica è un per parlare come ho già detto questa trasmissione nasce in un emittente di una università nasce per fare delle valutazioni e per creare delle idee non nasce ora a parte le battute con nessuna faziosità per questo ho detto che lei rappresenta una volta il governo una volta l'opposizione perché noi dobbiamo tirare fuori il meglio e parlarne quindi in modo molto sereno che cosa ci può dire lei onorevole anzi scusi senatore rispetto a ciò che ha detto il rettore come si può senatore sì allora guardi io ci credo in questo progetto ma faccio un passo indietro per chiarire che è proprio la non faziosità del mio agire politico questa idea che è nata 3-4 anni fa quindi non molti anni fa ma alcuni anni fa e dopo spiegherò il perché a mio giudizio non è stata ad oggi attuata è stata di fatto accettata e promossa anche dal Movimento 5 Stelle se è vero che proprio nella mia commissione finanze nel mese di febbraio ai primi del mese di febbraio è stato depositato un disegno di legge del Movimento 5 Stelle con tutte le firme del presidente della commissione bilancio pesco del capogruppo in commissione finanze fenu del professor Lannutti quindi tutto il Movimento 5 Stelle ha sottoscritto un disegno di legge analogo quindi la nostra volontà di Fratelli d'Italia è quella di fare del bene al paese noi crediamo davvero che questo sistema permetta innanzitutto di limitare l'indebitamento perché possiamo discutere di MES di Eurobond ma comunque l'indebitamento è sempre un aspetto negativo noi tramite questo sistema possiamo limitare l'indebitamento e iniettare nel sistema economico dai 50 ai 100 miliardi all'anno che potrebbero costituire davvero una piana ricostituente per il sistema economico il vantaggio e la risposta al perché non è stato finora utilizzato perché evidentemente e il rettore ha capito perfettamente il tema il partito democratico che me ne assumo la responsabilità io l'ho sempre definito la longa manus di Bruxelles nel nostro paese e teme per conto terzi che questa moneta fiscale possa renderci parzialmente meno dipendenti dal gioco europeo dal gioco dell'alta finanza e di conseguenza si oppone a questo e infatti nonostante il Movimento 5 Stelle abbia depositato questo disegno di legge non ne ha più parlato perché probabilmente evidentemente qualcuno gli ha suggerito di non farlo ebbene Fratelli d'Italia che non ha niente da perdere perché chiede e cerca solamente l'interesse del proprio paese sta in questo momento stimolando tutto l'arco costituzionale a prendere in mano un progetto che non da solo certamente ma complementariamente ad altre ad altre politiche potrebbe rivitalizzare il sistema economico anche una cosa bandecchi anche se sono solo 3-4 anni nel governo precedente c'era la Lega che è abbastanza vicina a voi e a Forza Italia in questo centro-destra che naturalmente ha anche qualche problema ogni tanto però perché la Lega non l'ha portata avanti se esiste da 3-4 anni cioè è nato adesso compiutamente è l'idea che esiste mi spieghi questa cosa certo ma allora ovviamente dovrebbe rispondere la Lega perché noi all'opposizione eravamo del governo giallo-verde e siamo del governo rosso-giallo a voi piace l'opposizione no a noi piace governare quando il popolo ci manda il governo non per giochi di palazzo ecco diciamo così però la Lega bisogna riconoscere ai nostri alleati sono stati al governo di fatto un anno e in quell'anno io ricordo che avevano cominciato a parlare i colleghi e col presidente Bagnai di moneta fiscale tramite una moneta leggermente diversa da questa ma sempre diciamo che dovremmo approfondire questi argomenti in maniera un po' più chiara però sicuramente ci sono dei pro e dei contro vede vede senatori il rettore è stato calmo fino a un certo punto poi ha capito è vero avevo detto al presidente che sarei io che dovevo fare l'opposizione il governo e ha cominciato a dire vabbè meglio tardi che mai perché lui ultimamente come in tempo di coronavirus va bene così quando tutti saremo d'accordo sul da farsi il coronavirus non ci sarà più lo dico a tutti gli ascoltatori tranquilli che prima o poi il coronavirus si stanca di stare in mezzo a una marea di gente così che proprio abbiamo dimostrato cosa valiamo detto questo senatore io la ringrazio per adesso la nostra trasmissione svolge al desio e quindi la ringrazio e la saluto solo una domanda nella sua regione diciamo di nascita come come va con il coronavirus e devo dire che anche nel Trentino Alto Adige ha colpito duro non siamo fortunatamente a livello di certe zone del Veneto e soprattutto della Lombardia però anche da noi insomma si è fatto sentire per fortunatamente la nostra autonomia provinciale noi ricordo che il Trentino Alto Adige si basa su due province autonome a statuto speciale quindi su quasi due piccoli stati che gestiscono gran parte delle competenze in modo autonomo la sanità ad esempio noi la gestiamo completamente in modo autonomo come il commercio l'industria ed altri settori e devo dire che il nostro sistema ha tenuto molto bene e tanto per essere chiari i tre qua abbiamo circa un quarto dei posti in terapia intensiva ancora liberi quindi insomma il sistema ha retto e sta reggendo senta ma invece il famoso passaporto che l'Austria voleva fare ad alcuni no è una domanda questa per capire l'hanno l'hanno fatto o no 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 non l'hanno fatto non l'hanno ancora fatto mi permetto di dire insomma che i nostri cugini dell'Alto Adige sul Tirolo insomma l'hanno presa più come una battuta scherzosa che non come una cosa seria va bene ok no perché di battuta in battuta insomma non si sa mai va bene era una cosa così che mi stava a cuore volevo volevo saperla pensavo se no mi domandavo perché sai io sono di Livorno e a Livorno abbiamo sempre pensato che siamo toscani e abbiamo avuto avevamo anche l'isola d'Erba c'avevamo il ferro è una vita e volevamo fare uno statino a parte per stare separati da tutti poi siamo un po' spocchiosi a parte noi livornesi che non ci incastriamo niente con il resto della Toscana però insomma ci sopportano ormai poi siamo lì nel mezzo poi noi lavoriamo voi toscani litigate tra voi dopo no ma sa come funziona in Toscana il resto della Toscana sono tutti signori in Toscana invece tutti operai tutti a lavorare quindi alla fine d'altronde lo Stanic questa puzza di petrolio dove l'hanno fatta a Livorno punto finito vabbè comunque lasciamo stare la saluto per adesso arrivederci arrivederci alla prossima arrivederci grazie bene rettore ecco che cosa mi può dire stasera non abbiamo tempo come no siamo vicini ormai alla Pasqua siamo arrivati alla Pasqua io non ne avrei mai scommesso le voglio leggere una cosa però è come un dialogo sai so fare una magia bellissima io dico alle persone quello che penso davvero e loro spariscono funziona sempre questa magia capisce questo è quello che secondo me delle volte lo dico anche i nostri ascoltatori può succedere in questa trasmissione noi diciamo le cose come stanno ed è una magia che funziona bene perché dopodiché proprio non vediamo più nessuno in molti casi in alcuni casi va bene il rettore io non so più che cosa dirgli lo dico per i fan del rettore prima o poi riuscirò ad eliminarlo sicuramente da questa trasmissione in maniera educata gentile lo farò lo dico è una promessa questa per tutti voi è il regalo di Pasqua è il regalo di Pasqua il rettore non lo sa io ci sono messaggi che mi dicono tratta bene il rettore cioè non quando parla il rettore lui dice delle cose intelligenti cioè io che io mi creda non rispondo perché cerchio di lei lo sa che tutti i giorni devo fare due ore di sacco io due ore di cazzotti nel sacco perché se no cioè se no quando vedo lei mi viene proprio una faccia a brù vabbè lasciamo stare non ci credo il rettore salutiamo dato che io e lei siamo vestiti da uvo di Pasqua ho avuto i due oggi ho avuto i due belli bianchi angelici la columba bianca la columba bianca sì lei è più angelico di me io diciamo sono un così un po' si sa lei è proprio angelico poi ha belli i capelli così al vento lei mi ricorda lei mi ricorda la pubblicità di uno shampoo vogliamo salutare il nostro pubblico vorrei vorrei che lei citasse il mio motto per favore datemi il superfluo l'indispensabile lo lascio a voi non è proprio così datemi il superfluo ma è brutto come dicevi chiudiamo la trasmissione buonanotte a tutti a domani è Pasqua ma noi ci siamo anche a Pasqua con l'ovo di Pasqua sicuramente arrivederci arrivederci buonanotte 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 buonanotte